Mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. La domanda del giornalista, lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta, la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Cioè questa povera figlia evidentemente è un OGM cresciuta dalla mamma con latte al plutonio.